Ciao, sono Gian Bellamo Giorgia, sono candidata per il Movimento 5 Stelle perché voglio dare il mio contributo, perché lo trovo una missione e per senso civico credo che sia un dovere da parte mia contribuire. Da 2018 sono con il Movimento 5 Stelle Basso Piave e abbiamo iniziato contrastando la grande opera inutile della TAV e pensiamo che il nostro territorio ha bisogno di un servizio capillare, efficiente e già servire le spiagge sarebbe un grande risultato. Dopodiché siamo passati a un'altra priorità che è quella della democrazia diretta, stiamo cercando di cambiare gli statuti di 5 comuni nel Basso Piave e penso che otterremo grandi risultati. Penso che collegandomi a questo, che un'altra incombenza ce l'abbiamo quest'anno, nel senso che scriveranno lo statuto metropolitano e noi dobbiamo cercare di dare il nostro contributo in maniera di introdurre questi strumenti. Riteniamo che è prioritario contribuire per il fatto che dobbiamo evitare che diventi un ente doppione con potere centralizzato che prenda sciate lontane dal volere dei cittadini. Concludo dicendo che dentro il Movimento 5 Stelle ci sono veramente persone valide, credo a loro e credo a loro intenti, ci mi fido ciecamente. Basta, concludo qui, vi saluto, ci vediamo in Parlamento e sarà un piacere. Grazie a tutti.